per quanto riguarda la storia della fotografia dobbiamo dire subito due cose la fotografia non nasce da un unicamente geniale e non nasce da un'unica ricerca è l'insieme di più personaggi e l'insieme di più ricerche svolte soprattutto nell'ambito della chimica e della fisica che porteranno a risultati simili e che porteranno quindi alla nascita della macchina fotografica e del supporto fotosensibile ma alla base della ricerca c'è una necessità c'è una volontà di scoperta questa ritroviamo nelle correnti intellettuali dell'ottocento soprattutto nel realismo pittorico guidato da courbet dove si cercava di rappresentare la realtà in maniera reale così come la vediamo con i nostri occhi non più filtrata attraverso la personalità dell'artista ma bensì reale così come la vediamo per quanto riguarda l'antenato più prossimo alla macchina fotografica invece è la camera oscura la camera oscura era una vera e propria stanza agli albori veniva utilizzata per guardare le stelle poi è diventato uno strumento anche portatile successivamente con il quale soprattutto nel rinascimento venivano studiate venivano rappresentate le linee prospettiche in maniera reale ma come poteva la luce essere fissata su carta a questo quesito rispose schulze uno scienziato tedesco nel 1727 quando durante alcuni esperimenti si rese conto che un composto chimico di nitrato d'argento reagiva alla luce che cosa vuol dire reagiva la luce vuol dire che la parte di composto chimico esposto alla luce cambiava colore o si anneriva ma bisognerà aspettare ancora un secolo prima dell'annuncio ufficiale dell'invenzione della fotografia la fotografia nasce in francia nel 1839 grazie alla collaborazione tra il pittore luis daguer famoso per i suoi diorami e l'inventore nieps che poi passerà alla storia come il primo fotografo nieps da tempo cercava il modo di fissare i risultati della camera oscura su una lastra fotosensibile utilizzando il bitume di giudea contemporaneamente alle ricerche di nieps in inghilterra vi era un altro ricercatore henry fox talbot che giunse ai risultati simili utilizzando però un procedimento differente e mettendo in evidenza un altro aspetto caratteristico della fotografia potremmo dire inventando la fotografia moderna cioè il negativo o meglio il fatto che la fotografia potesse essere riproducibile all'infinito grazie ad una matrice questo era il calotipo ed il processo veniva chiamato calotipia alla morte di nieps nel 1833 daguer continuò gli studi e le ricerche appunto sul metodo fotografico collaborando con il figlio di nieps che ebbe un apporto quasi nullo però alla ricerca fino al 1839 quindi per ben sei anni continuando a sviluppare gli studi di nieps e diciamo migliorando il sistema di quello che lui chiamò il daguerotipo con queste migliorie nasce una figura di un lavoro nuovo quello del fotografo dal 1839 ad oggi la fotografia non ha mai smesso di progredire come potete vedere anche oggi nascono sempre macchine nuove sensori nuovi accessori nuovi quindi questo è grosso modo la storia della fotografia